15. La sperimentazione, riferita nel seguito del documento come Progetto 82, è stata impostata su un campione statisticamente significativo della popolazione comunitaria. Inizialmente si è ricercato uno strato censuario rappresentativo dell'universo oggetto di studio, ceppo europeo, cultura occidentale, grado di istruzione e di sviluppo fisico standard, ecc. Una collocazione geo-economica ottimale, tensione sociale, disoccupazione, scarsa coscienza civica, una modalità di esecuzione facilmente replicabile e monitorabile. Le classi sottoproletarie residenti nell'area metropolitana di Napoli incarnavano tutti i requisiti richiesti e sono state perciò scelte per l'esperimento. Quando è stato necessario i parametri politici ed economici dell'area sono stati modificati, finché lo scenario non si è presentato soddisfacente. Identificato il target, si è sviluppato il vettore. L'enzima transgenico KJH82, Krisna Ganda, Jones o Kuto, in onore ai ricercatori che lo hanno sintetizzato, è stato polimerizzato su un substrato collagenico. Si è realizzato così un composto organico battezzato exitrazina, lievemente tossico ma tollerato in piccole quantità dal sistema immunitario umano. L'exitrazina, sostanza cristallina facilmente solubile, può penetrare nel sistema sanguigno con una semplice iniezione ipodermica, può essere ingerita con gli alimenti o ancora essere inalata allo stato gassoso. Imponendo ai soggetti campione un'assunzione regolare di exitrazina, si è registrato, in tempi dell'ordine del mese solare, un accumulo di KJH82 nelle ghiandole genitali, tessuti ovarici nelle femmine, testicoli nei maschi. Esaminando la generazione successiva, nel 75% dei casi si è osservata una modifica del patrimonio genetico. Di tale percentuale, il 90% risulta composta da mutazioni letali, causa di decesso entro il primo anno di vita, e il restante 1% da mutazioni inaspettate, non previste, dalle caratteristiche ancora sotto indagine. Il progetto 82 è tuttora in corso. Il numero attuale di soggetti sotto dosaggio controllato di exitrazina si aggira intorno alle 20.000 unità. 2.000 bambini sono stati e sono tuttora sotto osservazione. Tra questi, 1.350 hanno con certezza assunto il profilo caratteriale ereditario che rappresentava il fine ultimo della sperimentazione. Non possiamo ancora definirlo un successo globale, ma si tratta di un risultato estremamente incoraggiante. È da sottolineare l'aspetto finanziario del progetto. In pieno accordo con le linee strategiche della nuova ricerca europea, confronta Eureka 2000 Euro Joint Focus Group, la nostra sperimentazione non impegna risorse esterne, ma risulta anzi totalmente autofinanziata. Il budget necessario, unito a un non trascurabile surplus finanziario, proviene dallo stesso campione oggetto del test. Questo brillante risultato è stato reso possibile donando alla molecola dell'exitrazina proprietà narcotiche e neurotropiche. L'exitrazina possiede, dal punto di vista biologico, interessantissimi effetti collaterali. Di fatto, il suo ruolo da vettore chimico viene a essere totalmente oscurato dalle sue capacità di sostanza stupefacente. La realizzazione di una struttura di vendita e diffusione capillare dell'exitrazina alla popolazione ha costituito nella vita del progetto una parentesi pregna di interessanti traguardi secondari. Joseph B. Sarrese, Rapporto 82 Le pareti della grotta vibravano ancora, risuonando sonoramente come la cassa armonica di uno strumento a corde. Lara fissò col cuore in gola le crepe irregolari lunghe e scure come presagi disegnate sulla volta giallastra di tuffo e la polvere sottile come ricordi che ne cadeva piano. Rapprividì. Non preoccuparti, giornalista, sussurrò Anselmo ad assicurarla. Questo tunnel ha cinquecento anni, ha resistito a ben altro che il nostro petardo. Non tremavo per questo, replicò la donna. Per cosa allora? Pensavo a ciò che abbiamo ascoltato, alla registrazione, ai dati che abbiamo visto. Il vecchio corrugò la fronte. Allora? Lara era terrea in volto. Quei reparti speciali dell'ospedale, i bambini sottoposti a biopsie cerebrali, le vivisezioni. Non riesco a farmene una ragione. Vuoi dire che non ci credi? Lei deglutì. Magari potessi farlo. Anselmo a noi, comprensivo ma con gravità rancorosa. Ne hai parlato a Masaniello? A te lui ha raccontato molto più che a chiunque altro. Forse... Lara scosse la testa. Ho provato. Sai cosa mi ha risposto? Cosa? Storia lunga, orribile, ha detto. Non vorresti sentirla. Anselmo a noi. Dovevo immaginarmelo. Flebili bagliori rischierarono in lontananza il tunnel, rivelando agli occhi di Lara complesse strutture di pietra, archi, volte, stalagmiti alte come canne d'organo, macigni immensi e rampe che si perdevano nell'oscurità. I colori variavano dal giallo del tufo al verde delle deiezioni di pipistrello, dal nero dei rivoli d'acqua al bianco del gesso. Non avevo idea, mormorò. Cosa? Non avevo idea che la collina di Posillipo fosse un simile groviera, ripeté la donna. Quasi temesse di contaminare il silenzio umido di quella grande bolla nella roccia. Anselmo annui con aria vissuta. Tutta Napoli è un un groviera, come dici tu, giornalista. Una vera città sotterranea, il posto ideale per nascondersi. Quando ero più giovane, io, dalla sua posizione. Anselmo si zitti. Lara segnò nel suo libro di ricordi di essere in debito di un ringraziamento verso l'uomo dalle orecchie a punta. L'aveva appena salvata da una delle inesauribili storie di camorra del vecchio e ciò costituiva un merito non trascurabile. Stefano accese e spense la torcia sette volte. Lampi di luce rossastra, occhi di drago nella semioscurità di quell'antro informe e avvolto dagli echi. «Soltanto sette uomini», mormorò Anselmo. «Non dovremmo avere problemi. Sono bene armati. Non importa. Pensi che la frana possa tenere fuori gli altri a lungo?» «Credo di sì. Quanto?» Anselmo scosse la testa. «Non so. Questo potrebbe dircelo quel tuo Moretti. Peccato che non sia qui». Il vecchio carezzò la sua beretta. «Non importa. Il tempo ci basterà in un modo o nell'altro. Avanti. Procediamo come stabilito». Il panico è una buona coperta di sicurezza. Puoi usarlo per coprirti, chiudere gli occhi e fingere che nulla faccia più differenza, perché il peggio è garantito. «Movimento», segnalò il sergente, leggendo il suo strumento alla fiocca luce del visore del casco. «Dove?» «Cinquanta metri. Nord-ovest». «Ho rilevamento anch'io, signore», e cheggiò un secondo soldato. «Anch'io», approvò un terzo. «Spegnete le torce e passate all'infrarosso», ringhiò Sanrese. «In fretta». «Idioti», aggiunse tra sé, mentre gli uomini eseguivano l'ordine con qualche imbarazzo. «Cosa ho fatto per meritarmi simili incapaci?» «Signore», tenendo lo sguardo fissa a terra e strascicando gli stivali grigi con la banda laterale gialla. «Cosa c'è? Non sarebbe meglio aspettare che la pattuglia in retroguardia liberi il passaggio dalla frana? Siamo rimasti in pochi e...» Sanrese squadrò gelidamente e sottoposto. Era un uomo di colore, dai tratti del viso grezzi, quasi fossero stati appena abbozzati nel mogano, e folti baffi, sporchi di cenere e di terra rossastra. A paura, sergente, inquisì. «Non è questo, signore», protestò il sotto ufficiale. «E allora? L'esplosione ha procurato gravi danni alla squadra. Abbiamo molti feriti e...» «Io... va bene, signore», acconsentì l'altro. Nella voce, netto, un registro di sollievo. «Agli ordini!» Sanrese lo guardò allontanarsi. Vene azzurre, pulsanti, affiorarono sulle sue palpebre candide. Poi scomparvero. La pelle perfetta del suo viso tornò a distendersi. «Brandi?» «Signore», rispose prontamente un agente a suo fianco, un giovane colosso dal naso rotto e dallo sguardo bovino. «Il sergente Ortega. Codice 2». «Codice 2?» ripete l'altro in tono incredulo. «È sicuro, signore?» «Codice 2», scandì Sanrese. Il giovane agente batte le palpebre, sconcertato. Poi sembrò irrigidirsi. Alzò il fal, sfiorò col dito i comandi al sensore posti sul grilletto. Sparò. Il proiettile colpì con precisione crudele, conficcandosi alla base del collo del sergente, nei pochi millimetri di carne lasciati scoperti tra l'elmetto anatomico e il giubbotto corazzato. Il sotto ufficiale stramazzò al suolo, senza un lamento. I suoi arti si agitarono scompostamente, poi rimasero immobili. Il terreno morbido della caverna si colorò di rosso. Sanrese passò in rassegna con lo sguardo quanto restava della sua squadra. «Ci sono problemi?» chiese in tono di sfida. Gli rispose solo il silenzio. Il mimo box di Sanrese comunicò un avviso tattico. L'uomo annui, pensieroso. «Alta probabilità di cedimenti della volta», disse i suoi. «Movimenti a nord, a nord-ovest e a est, signore», balbettò Brandi. «Rilevo tracce termiche, colonnello», disse un altro agente. «Quante?» «Molte! Credo, credo che siamo circondati!» Un sibilo, un tonfo. Sanrese guardò ai suoi piedi. Un coltello si era piantato nel terreno, a pochi centimetri dalla punta del suo stivale. L'acciaio vibrava ancora. «In nome dell'esercito popolare di Masaniello!» «Gas», replicò tranquillamente Sanrese, infilandosi filtri nelle narici. Gli uomini in giallo e grigio, come l'ufficiale aveva sperato, reagirono positivamente alla sua freddezza. Si disposero a coppie, schiena contro schiena, impugnarono i lanciatori e lasciarono partire le cariche chimiche. Si udirono tre tonfi e tre sibili in rapida successione, poi il fup degli involucri che si laceravano. Dalle rocce intorno, imprecazioni e scariche di pallottole. Stormi di pipistrelli, spaventati, si levarono in volo dalla volta, disperdendosi nei meandri della grotta. Alcuni agenti, colpiti, barcollarono. Ma i loro corpetti erano pesantemente blindati e riuscirono a rimanere in piedi. In pochi secondi il gas, denso come nebbia, invase la caverna, sollevando una cortina impenetrabile tra gli assedianti e gli assediati. «Presto, metti questi!» farfugliò Anselmo. Lara fu lesta ad afferrare i tamponi che il vecchio le porgeva. Erano umidi, odorosi, della consistenza del cotone. Lei li palleggiò tra le dita, perplessa, non sapendo cosa dovesse farne. «Legali con un fazzoletto!» le ingiunse Anselmo, facendole vedere come sistemava i suoi intorno al viso cotto dal sole. «E speriamo che si tratti solo di L5!» «Altrimenti?» ansimò la donna, respirando astento attraverso il tessuto greve del tampone. «Altrimenti niente!» tagliò aver sentito male. «Mi dispiacerebbe solo perché non vedrò la fine di questa storia!» tagliò corto Anselmo. Lara sussultò. Si toccò gli orecchini, sforzandosi di ricordare qualche brandello di preghiera. Non vi riuscì. La sua mente era un muro imbiancato dalla tensione. «Eccoli che arrivano!» esclamò Anselmo, tossendo. «Corrono! Come fanno a non finire contro le rocce? Vedono nella nebbia! Ma è logico! Hanno gli infrarossi, quei bastardi! Ci sarà mai qualcosa che non hanno?» «Che facciamo?» chiese la donna. «Tu fermati qui, giornalista! È il posto più sicuro!» Per qualche istante Lara meditò su una possibile replica che suonasse eroica. «Mi hai già invitata a questo ballo, ricordi?» Oppure «L'unico posto sicuro è col nemico di fronte e un'arma in mano!» O ancora «Sono loro che devono avere paura, non io!» Anselmo aveva ragione. Non era una combattente e doveva accettare il suo ruolo. Erano altri i modi in cui avrebbe potuto essere utile. Si appostò dietro una delle tante colonne di roccia che si alzavano sino a raggiungere la volta della caverna e attese. Poco a poco l'attenzione lasciò il posto alla voglia di capire, di assistere agli eventi. Era un momento decisivo, lo sentiva. Negli squarci del muro di nebbia, si pari della battaglia si aprivano e si chiudevano di fronte ai suoi occhi, illuminati dai lampi degli spari, sciabolati di luce dal raggio delle torce impugnate a mano o legate alle cane dei fucili, soffusi di chiarore dallo stesso gas e dai suoi misteriosi processi chimici. Scorse Stefano, il colorito cianotico e gli occhi iniettati di sangue che tossiva immerso nei vapori di nebbia, sputando saliva mista a sangue scuro. Il suo avversario, un uomo massiccio dal collo taurino, sussultò. Ma non cadde. Si volse subito nella direzione del colpo ricevuto e alzò il suo fallo. Il cerchio violaceo del laser di puntamento si accese sul petto di Stefano. Il laser imprecò, si strappò dal viso il tampone e si gettò addosso al soldato prima che questi avesse tempo di premere il grilletto. Rotolarono nella polvere, avvinghiati. Nessuno intervenne. Le volute del gas isolavano quel duello solitario, interminabili secondi dopo, Stefano si rialzò mentre suo avversario restava a terra, la lama di un coltello affondata nella gola. L'uomo dalle orecchie a punta gli strappò il visore infrarosso e lo lanciò a pascià che sopraggiungeva. Ma era stato il suo ultimo sforzo. Lara lo vide afflosciarsi, la lingua ormai nera fuori dalla bocca, in un estremo tentativo di trarre ossigeno dall'aria avvelenata che lo circondava. Un reforo di nebbia cancellò la scena. Il gas, impietoso, si squarciò, rivelandole una scena inaspettata e agghiacciante. Due uomini della sezione speciale, appostati al riparo di una parete di nebbia, facevano strage di lazzari, colpendo metodicamente e con precisione letale, uno dopo l'altro, uomini, donne e ragazzi. I loro bersagli erano guidati dal tizio allampanato e dalla donna scura dagli occhi pungenti, i due membri del collettivo che Lara ricordava di aver conosciuto durante la sua prima riunione al rifugio clandestino. Costoro abbaiavano ordini confusi e facevano sparare i loro uomini alla cieca, non rendendosi assolutamente conto della posizione dei due cecchini. Il gas doveva alterare la percezione, pensò con angoscia Lara. Non sapeva spiegarsi in altro modo perché quei disgraziati restassero lì, caparbi, a farsi massacrare. I corpi cadevano l'uno sull'altro, come spighe in una mietitura di sangue. Lara non avrebbe saputo contarli, ma erano decine. Con la coda dell'occhio vide Pasha vagare nella nebbia alla ricerca della sorgente degli spari. L'uomo con le braccia artificiali, valutò Lara, non era stato individuato dai cecchini e aveva buone possibilità di prenderli d'infilata. «Pasha!» La maggior parte dei colpi, vide con angoscia Lara, andarono a vuoto. Uno dei proiettili staccò schegge di roccia dalla parete che rimbalzarono prendendo al viso uno dei cecchini. Imprecando, costui lasciò andare il suo A.I.M. e prese a fregarsi gli occhi. L'altro, sul viso un'espressione imperturbabile che sconvolse Lara, si guardò intorno alla ricerca del nuovo avversario. Al visore che portava sugli occhi, il calore corporeo di Pasha dovette apparire di distintamente nella nebbia, perché il soldato sprecò una sola pallottola. L'uomo senza braccia cadde senza un lamento. Lara smise di respirare. Il cecchino si era accorto anche di lei e la fissava. Come un passero incantato da un serpente, la donna vide il laser di puntamento che la cercava, bucando la cortina di gas, sempre più vicino, sempre più mortale, finché non arse violaceo sulla sua carne. Nessuna direzione in cui fuggire, nessun posto in cui nascondersi. Era finita. «Sono morta», pensò Lara, chiudendo gli occhi in attesa del colpo finale. «Masagnello! Masagnello!» Le urla le fecero capire che per qualche strano motivo il suo momento era stato rinviato. La donna batte le palpebre e scrutò nella nebbia. Spalancò gli occhi per la sorpresa. Il manipolo di Lazzari doveva aver approfittato della distrazione dei cecchini per riorganizzarsi e adesso era decisamente passato al contrattacco. Ripetendo ossessivamente il nome del Vat della rivolta, i membri del neonato esercito popolare, incuranti delle pallottole, erano balzati addosso ai due agenti della sezione. Li avevano sopraffatti con la forza del numero e adesso li stavano letteralmente facendo a pezzi. Quando le urla cessarono e la mischia si diradò, Lara azzardò un nuovo sguardo. «I Lazzari ancora in piedi non erano molti», osservò la donna. E tra i sopravvissuti alla carneficina, Lara non riusciva a scorgere traccia dei due membri del collettivo. Erano le due figure stese sul terreno, appena alla base del pendio? Forse. Fuori dal cerchio delle torce, il chiarore era troppo fioco per distinguere alcunché. Ma non sembrava che l'assenza dei capi mitigasse l'ardore degli uomini. Ormai, pensò Lara, lo scontro era andato ben oltre il punto di non ritorno. «Laggiù!» sentì Anselmo che gridava. «Ecco gli ultimi!» Lara aspettò che le lanterne dei Lazzari venissero puntate nella nuova direzione. Fu allora che li vide. Sarrese e due uomini attendevano a pie fermo in una zona della caverna libera dal gas, un piccolo pianoro di qualche decina di metri di lato, a ridosso di un arco di pietra il cui apice si perdeva nell'oscurità. All'improvviso Sarrese fece cenno ai suoi soldati, indicandosi le orecchie. Loro annuirono. Lara non fece in tempo a chiedersi cosa l'ufficiale avesse in mente. Un ronzio penetrante per vase la grotta. Dapprima solo fastidioso, poi sempre più intenso, sempre più acuto, sempre più insopportabile. La donna sentì un dolore atroce esploderle nei timpani, come se avesse ricevuto all'improvviso una stilettata incandescente. Fu colta dalle vertigini. Si portò le mani alle orecchie e premette con forza tentando di resistere a quella tortura. Urlò, ma senza sentire il suo suono della propria voce. Cade in ginocchio, bugolando, con gli occhi pieni di lacrime. Quando ormai credeva o sperava di impazzire dal dolore, il suono cessò. Si scosse, attese che il mondo smettesse di tremare e acquisisse di nuovo contorni definiti. Si guardò intorno. I lazzari erano a terra. Alcuni gemevano contorcendosi, altri giacevano immobili, in pose scomposte, innaturali. Sanrese incombeva su di lei. Alla sua destra e alla sua sinistra, due agenti in tenuta cenere e nicotina gli facevano ala. Avevano acceso di nuovo tutte le luci del loro equipaggiamento, ostentatamente, come per dimostrare di avere ormai in pugno la situazione. 20 metri Lara non riusciva ancora a rimettersi dagli effetti del colpo sonico e soprattutto dall'enormità dell'accaduto. «Cosa? Come?» balbettò. «Lei è sempre fortunata, giornalista. Sono... sono tutti morti?» Sarrese scosse la testa. Il suo viso dalla pelle perfetta non rivelava la minima emozione. «È davvero deprecabile, ma devo rispondere di no», ammise in tono professionale, come se la carneficina che li circondava fosse una semplice dimostrazione accademica. «Ma...» lui diede una pacca sul calcio dell'arma sonica. La somiglianza con un revolver era solo apparente. In realtà, visto da vicino, il dispositivo ricordò agli occhi di Lara più un telecomando che una pistola. «Questo prototipo non fornisce ancora la potenza richiesta dalle specifiche», considerò in un registro di rammarico. All'improvviso cambiò tono. «La Seagate, giornalista!» «Cosa? L'unità bio-zip, quella che mi avete rubato!» Una sferzata di orgoglio, potente come adrenalina, fece riprendere Lara, almeno per un istante. «L'ho qui con me, figlio di puttana, ma non ti servirà a niente», si bilò, stringendo i denti, per resistere al ronzio che ancora echeggiava nelle sue orecchie. «Davvero?» commentò Sarrese, tranquillo. «L'abbiamo letta e duplicata. Possiamo renderne pubblico il contenuto quando vogliamo». Per la prima volta lui parve divertito. «Perché? Pensate che io voglia lasciarlo privato?» La donna batte le palpebre, confusa. «Cosa? Sono quasi vent'anni che curo il progetto 82», ridacchiò Sarrese. «E' ben ora che ne illustri i risultati e che ne riceva il giusto riconoscimento», aggiunse. Lara, interdetta, indietreggiò, incesticando, riuscendo solo a malapesiare a reggersi in piedi. «Non capisco. Pensava che volesse indietro la mia unità per paura che la leggeste. Lei è una sciocca». Sarrese ripose l'arma sonica nella custodia alla cintura, incrociò le braccia e sorrise. Una smorfia finta, raggelante, orribile. «Mi preme il possesso del documento originale. Lei sa come vanno le cose nel mondo della ricerca. C'è sempre qualcuno pronto a batterti sul tempo, plagiando la tua pubblicazione e firmandola al posto tuo. E lei sarà d'accordo. La paternità del progetto 82 rappresenta un titolo non indifferente. Mi seccherebbe davvero trascorrere i prossimi sei mesi a combattere battaglie legali. Le vincerei, intendiamoci, ma provo più gusto a battermi in scontri reali. Perciò, le ripeto, mi renda la mia biorec. Adesso». Lara pensò che l'arma sonica doveva averle annebbiato il cervello o che i rudimentali filtri di Anselmo non l'avevano protetta a dovere dal gas. Ciò che sentiva non poteva essere reale. In un limbo onirico e crudele, dove le coordinate del buonsenso e della morale si erano smarrite, dove la stessa verità era deformata. «Pubblicazione, titolo», ripetea, tonita e furiosa, forse furiosa perché artonita. «Di cosa stai parlando, figlio di puttana? Il tuo progetto 82 è un incubo. Uomini ridotti a esemplari da laboratorio, manipolazioni genetiche, indottrinamento, droga. Come osi chiamare questi orrori ricerca?» Sarrese rise senza trattenersi. Lara lucidamente capì che l'avrebbe uccisa. Glielo leggeva in quegli occhi tondi, assurdamente infantili. «Sciocca ragazzina! Crede davvero che il progetto 82 sia l'unico esperimento in corso sulla popolazione di questa città?» «Cosa?» Lui gettò indietro la testa. La sua sagoma si interpose tra il fascio di luce proiettato dal fucile d'assalto dei due agenti e la parete della caverna. Sul tufo e le ragnatele si stagliò un'ombra minacciosa. «Le classi inferiori sono serbatoio di cavie umane per definizione. Specie in città come questa, dove le condizioni ambientali creano campioni numericamente significativi. Lei crede davvero che io sia stato il primo?» Lara arretrò ancora. Sentiva le gambe molle. Il suo senso d'equilibrio rispondeva solo a tratti. Sotto la suola delle sue scarpe, il terreno cosparso di bossoli scricchiolava sinistramente. «Non ti credo! Le persone non si usano come cavie!» Sarrese è del tutto errato. Lara pensò che se avesse ascoltato un'altra volta ancora la parola deprecabile avrebbe cominciato a urlare. La fraseologia di Sarrese l'irritava quanto e più del tono trionfale arrogante della sua voce. «Classi inferiori? Da quanto tempo non sentivo un termine simile? Io tentò di protestare, ma senza successo. La testa le doleva, le orecchie martoriate continuavano a fischiarle. Avrebbe voluto bere qualcosa di forte, ma lì non c'era nulla. Solo lei e quel pazzo assassino in divisa». Sarrese compì un gesto ampio con la mano, ad abbracciare la distesa di corpi inerti che punteggiavano il terreno della grotta. «Queste misere creature hanno in comune con me un'origine biologica, forse, ma nulla di più. A separare i membri della mia classe e costoro ci sono decenni di tecnologia, nuove branche scientifiche, ritrovati, mezzi, risorse e privilegi che lei neppure immagina». Sorrise di nuovo. «Ma vedo che non afferra. Mi permette allora di chiarire con qualche esempio. Quanti anni crede che io abbia, giornalista?» Assurdamente, Lara si trovò a pensare all'ultima volta che qualcuno le aveva rivolto la stessa domanda, in una casa abbandonata alla polvere e ai ricordi. «Non risponde», insistette Sarrese. «Non importa, difficilmente potrebbe indovinare. Ho compiuto 79 anni da pochi giorni. Sono perfettamente sano e potrò conservare l'aspetto e la forma fisica attuale per almeno altri tre decenni. Le tecniche di Dio innesto a disposizione della mia classe lo consentono senza problemi. Mi guardi bene e poi mi dica, cos'ho in comune io, o quelli come me, con questi bipedi quasi senzienti, con queste misere bestie da laboratorio?» Lara sbarrò gli occhi. «79 anni. Sarrese era più anziano di Anselmo. La donna sovrappose il viso regolare, perfetto dell'uomo indivisa, all'arabesco di rughe bruciato dal sole e dagli scempi della vita del vecchio camorrista. Accostò l'ottimismo vincente da dominatore del colonnello con il pessimismo rancoroso da settantenne che intravede la fossa scura dell'amico dei capelli grigi. Il paragone suonava di una crudeltà indicibile. «Loro non sono... noi non siamo cavie», ripeté, cocciuta, nonostante la debolezza che si sentiva addosso. «Non siamo sudditi da rendere geneticamente schiavi». «Siete già schiavi», tagliò corto l'uomo. «Molti di voi sono persino felici di esserlo. Io cerco solo di rendere il processo più rapido». Di nuovo, Sarrese gettò indietro la testa. «Adesso basta, però. Lei mi ha fatto perdere anche troppo tempo, giornalista». «Brandi», ordinò al giovane colosso che gli era al fianco, «la prigioniera ha indosso un'unità Seagate che mi appartiene. Codice 11, prego». «L'aravi della gente della SSI avanzare minaccioso verso di lei». Tentò di voltarsi e fuggire, ma il suo senso dell'equilibrio la tradì di nuovo. E il mondo le vorticava intorno. Con gelida efficacia, il soldato le piantò un ginocchio sulla schiena, immobilizzandola, e cominciò a frugarle violentemente i vestiti. La stoffa si lacerò con un suono acuto, come urla di bambini contro la roccia. «La lasciami, animale!» protestò la donna, tentando disperatamente di opporsi, mentre l'uomo le strappava gli dosso la blusa e i calzoni elastici della tuta, gettandoli poi lontano. «L'ho trovata, signore!» esclamò la gente, soppesando il dischetto bruno sul palmo della mano. «Molto bene!» commentò Sarrese. Poi ghignò. «Ma la prego, Brandi, continui! La prigioniera potrebbe nascondere ancora qualcosa di interessante!» La gente, con docilità assoluta, obbedì all'ordine, tornando a chinarsi su Lara. La donna, senza fiato, si dibatté debolmente, imbocca il sapore orribile della vergogna e dell'umiliazione. «Anche la biancheria?» specificò Serafico Sarrese. «Servizio completo, Brandi!» «Maledetti maiali!» assimò Lara, sopraffatta dalla rabbia impotente. Il colonnello assunse un'espressione sorniuna. «Pudore, giornalista? E perché? Le ho già dato un'occhiata una volta, ricorda?» «Ora che ci penso», ghignò ancora. «Avevamo lasciato qualcosa in sospeso. Possiamo rimediare adesso!» Lara, ancora immobilizzata dal peso di Brandi e dai postumi del colpo sonico, sentì che i suoi slip li venivano abbassati fino alle caviglie. Gridò, mentre veniva afferrata brutalmente per i fianchi e costretta ad allargare le gambe. Osò alzare la testa. Sarrese incombeva su di lei adesso. Si era slacciato i calzoni con intenzioni inequivocabili. Il pene dell'uomo era roseo, regolare, neppure troppo turgido. La pelle sottile, una corta peluria bionda all'inguine e intorno ai testicoli. «La tenga bene ferma, Brandi», ordinò Sarrese. «Ho intenzione di farle male». Lara tentò di mordere la mano che la gente le stava calcando sul collo. Ma prima che potesse stringere i denti, si trovò libera. Avvertì uno spostamento d'aria, rapidissimo. Poi un urlo. Rotolò sulla schiena, appena in tempo per vedere Brandi scagliato violentemente contro l'arco di pietra che chiudeva il piccolo pianoro. Il volo dell'uomo fu assurdamente soave, una parabola di perfetta armonia alla luce delle torce. Ma l'impatto fu atroce. Brandi rovinò a terra e giacque immobile, la schiena piegata in un angolo non previsto dall'anatomia umana. Uno, due, tre secondi. Agli occhi della donna, scene accelerate, immagini quasi stroboscopiche. Lara vide il secondo agente che puntava il fal, il cerchio violaceo del laser che cercava il bersaglio. Un corpo smunto che correva a una velocità folle. Un cencio che svolazzava, nero forse più di fuligine che di tintura. Un nuovo urlo, un nuovo volo verso il nulla. «Che fine avevi fatto?» ansimò Lara, provando un sollievo tale da dimenticare persino di coprirsi. «Non avevo voglia di combattere», tagliò corto Masaniello, le parole come foglie secche sotto la lingua. «Volevo solo lui», indicò Sarrese. Non spaventato. Carli odio, tutto buono. Adesso, resta,